buongiorno a tutti ben ritrovati qui su Radio Rosso Nera torni a Minonda per obbligo di riscatto è il quattordici agosto del duemilaventitré e il giorno prima di ferragosto Beatrice Sarti ciao Bea ciao ciao a tutti buongiorno siamo ormai arrivati all'ultima settimana prima dell'inizio del campionato esattamente tra otto giorni sì perché lunedì con lunedì tra otto giorni il il Milan torna in campo per la prima di campionato perché da adesso in poi non c'è più spazio per amichevoli il tempo delle prove è finito la prossima partita sarà Bologna Milan appunto di lunedì sera eh per la prima di campionato ea nel mentre ieri il Milan ha finito le sue amichevoli ha giocato qualche amichevole prima in Italia poi è andato negli Stati Uniti poi è ritornato in Italia e ha fatto qualche altra amichevole con le ultime due un giorno con l'altro una di sabato con le Tuale du Sahel e domenica contro il Novara vittoria 4 a 0 contro le Tuale de Sahel vittoria 4 a 2 con il Novara eh ieri insomma io ti chiederei più che un bilancio sulle due partite di ieri un bilancio su tutto questo prima parte di di pre stagione di pre campionato un po' i classici pregi e difetti che hai notato in queste prime partite poi ci ricolleghiamo perché in base a questo anche si penserà al prossimo mercato e lo vedremo tra poco ci sono novità soprattutto per l'attaccante ma guarda è stato un pre campionato che ha lasciato diciamo dubbi e speranze no perché ha lasciato comunque la speranza di vedere un grande una grande fase offensiva perché i giocatori ci sono voglio dire il mercato in quella in quella parte di campo ha a davvero anzi fa davvero sognare perché poi voglio dire le partite come hai detto tu verde devono ancora arrivare però devo dire che in quella parte di campo ecco vediamo lui che forse anzi senza forse nel simbolo fa davvero sognare ha lasciato dubbi per quanto riguarda la fase offensiva perché i gol subiti anche ieri due e ma al di là dei gol credo che ci sia un po' tutta la la fase no difensiva da rivedere quindi sia difesa sia sia centrocampo si è parlato di errori dei singoli ma i singoli sono un po' tanti quindi non credo che siano errori solo dei singoli credo che sia questo quindi un po' quello che preoccupa in questo momento un po' la fase la fase difensiva anche perché credo che questo sia figlio di quello che abbiamo visto l'anno scorso no alla fine se l'anno scorso non avessimo vissuto quella stagione con tanti gol presi magari sai l'occhio non cade neanche così tanto su quegli errori avendolo già vissuto l'occhio è portato di più ad analizzare proprio quella parte quindi penso che che sia normale insomma io credo che come detto giustamente tu in questo momento in realtà le squadre fanno spesso vedere quelli che sono i propri pregi e difetti fin dall'inizio poi tendenzialmente si cerca di correggere si correggono a volte no a volte ci si ritrascina per mesi e mesi a volte per un'intera stagione oppure ancora di più le amichevoli per me hanno detto che il Milan avrà nuovi gol come detto Gazzetta dello Sport sono d'accordo il Milan andrà ad attingere da altri giocatori gol cosa che magari nelle ultime stagioni non ha fatto qualche gol in più dal centrocampo qualche gol in più dagli esterni qualche gol in più anche perché no dalle palle da fermo perché ne abbiamo visti che sono stati realizzati e probabilmente si sta iniziando a lavorare un po meglio sotto quell'aspetto soprattutto per i gol fatti perché ancora sui presi c'è da lavorare però qualche gol in più da quel punto di vista arriverà poi insomma come tutte le squadre in questo momento dell'anno non si può essere totalmente equilibrati il Milan non lo è in questo momento è una squadra equilibrata tende a ogni tanto a spaccarsi un po' intanto va a essere un po' troppo lunga anche quando salta la prima pressione poi si fa fatica a rientrare insomma è una squadra ancora con un cantiere aperto ti dirò come in parte giusto che sia essendo il 14 agosto e avendo cambiato almeno 6 o 7 giocatori poi probabilmente se ne cambierà altri perché abbiamo visto anche negli ultimi amichevoli qualche errore di singoli c'è stato al di là del reparto il buon Simon Kier tutto questo mese di precampionato ha arrancato forse anche al di là del del suo peso corporeo che magari lo fa entrare in condizioni una seconda parte però mi sembra un po' in difficoltà come mi è sembrato un po' difficoltà Florenzi al di là del piccolo stop per il problema muscolare insomma ci sono due o tre giocatori che fanno un po' fatica proprio a livello fisico oltre che a livello di squadra vediamo se il mercato andrà a colmare quella lacuna e proprio da questo credo che potremmo ripartire Bea chiuderei con l'attaccante perché anche lì olivio girù qualcosina ha lasciato per strada in questo mese però magari speriamo possa essere semplicemente un sorta di riaccensione del motore dopo che il motore è andato in andato tanto è andato per un anno ai pieni giri quindi forse troppo anche se io me lo ricordo nelle ultime due due per i campionati olivio girù ci dava un po' di più rispetto a questo però ogni anno fa un po' storia a sé ma chiudiamo dopo con l'attaccante ti chiedo a questo punto quale è secondo te la priorità non l'attaccante che ne parliamo dopo ma tra il difensore centrale c'è Simon Kier e quello che magari potrebbe essere ancora una volta ci facciamo aiutare dal buon Matteo Moretto perché il Fenerbahce continua a lavorare per la De Krunic anche se come dice Matteo in quanto non si arriva a quella cifra lì quantomeno in doppia cifra il Milan non apre e soprattutto ultima ultimissima riga Krunic per Stefano Pioli è un pezzo fondamentale è una parte fondamentale della sua squadra e l'abbiamo visto e l'abbiamo visto anche ieri perché al suo posto ha giocato Adli e non Junos Musa perché Musa ha fatto la mezzala insomma dovessimo perdere Krunic già una parte dei tifosi una parte della critica vede lì uno degli obiettivi da rinforzare per il Milan cioè giocatore davanti alla difesa oltre a Rade Krunic se toglie anche Rade Krunic non ci sono dubbi ma allora devo dire che l'ultima frase del tweet di Matteo cioè Krunic è un pezzo fondamentale per Pioli sono d'accordo in parte nel senso che per me avere un giocatore come Rade in squadra è utile in questi anni l'abbiamo visto come è stato utilizzato ed è stato utilizzato per me nel modo in cui deve essere utilizzato uno come Krunic cioè non è il titolare fisso un giocatore che se ti serve c'è se deve stare in panchina ci sta però prenderlo come perno fondamentale del centrocampo del Milan lì in mezzo per me no cioè con tutto il bene che voglio a Rade io credo che il suo non sia quello quindi l'ho visto anche non ti dico in difficoltà però si vede che non è il suo stare lì un conto che lo faccia ogni tanto lo faccia alla bisogna però io non credo che sia propriamente il suo fare quel ruolo ed è un ruolo molto importante perché comunque il Milan è molto offensivo e fare quel ruolo con quei due centrocampisti uno a destra e uno a sinistra deve essere il tuo perché altrimenti si vede quindi capisco che tenerlo sia importante per Pioli però cioè servirebbe qualcos'altro per me quindi al di là della sua cessione o meno che giustamente è ancora preso in considerazione perché lo stipendio di Krunic attualmente è basso lì a centrocampo però per me in quel ruolo lì serve qualcos'altro anche perché come hai detto ieri c'era la possibilità magari di provare Musa in la zona di campo invece ci abbiamo messo Adli che ha tutt'altre caratteristiche tutt'altro peso in rose eccetera 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 quindi insomma il mister l'altro giusto è stato abbastanza chiaro è soddisfatto del centrocampo così come ora se dovesse poi arrivare l'offerta pazza per Krunic e Krunic decide di andare bisogna comunque ovviamente intervenire sul mercato perché a questo punto è il titolare del ruolo eh sì è un po' tardi ma è il titolare per quel ruolo intendo cioè appunto cioè per quel ruolo lì se va via Krunic dovresti andare su un giocatore che non è che è già pronto di più perché investire di quel ruolo il oggi siamo a 14 di agosto cioè devi prendere un giocatore che sa farlo bene sa farlo subito sa inserirsi subito perché come dici tu sarebbe il titolare stiamo a vedere stiamo a vedere un po' come come andrà al mercato in queste in questo momento indicazioni per un eventuale sostituto di Krunic non c'è e quindi è giusto non non andare non andare oltre mi soffermerei un minutino sul difensore centrale quello sì perché al netto degli infortuni piccoli e gravi o grandi di di Davide Calabria e di e di Florenzi sono amichevoli e amichevoli che vediamo Pier Calulu in quella zona di campo lo abbiamo visto anche nell'ultimo weekend Pier ha giocato con quelli che si possono considerare i titolari Calabria ha giocato ieri eravamo partiti nella conferenza stampa di inizio stagione con Pioli che a Milanello diceva in effetti Pier l'anno scorso l'ho fatto confondere un po' troppo l'ho spostato un po' troppo e anche per questo che magari non ha reso così tanto bene sarà il nostro difensore centrale poi ricomincia la stagione complice ovviamente anche qualche infortunio ma ieri meno lo vediamo terzino a destro ora se lui viene battezzato ancora una volta jolly cioè un po' qui e un po' là la prima vera l'alternativa in mezzo rimane Simon Kier con Calulu che nel caso è alternativa ma se Calulu gioca a destra metti una partita il primo che entra dalla panchina rimane Kier non è che siamo un po' corti? sì per me siamo un po' corti anche anche lì perché comunque Kier non ti ha dato le garantie che ti servono cioè sei tanti a destra a quel punto perché sei in tre ma sei corto in mezzo sei corto in mezzo e ripeto soprattutto cioè a me sembra un po' strano al di là di questa come si dice che rel di Calulu destra centrale mi sembra un po' strano che dopo la stagione che hai fatto l'anno scorso in cui comunque purtroppo Tomori e Calulu non hanno dato quello che hanno dato l'anno che hai vinto lo scudetto con Kier che ha quell'età e quei problemi fisici non ti sia venuto nemmeno un minimo dubbio di farlo un difensore centrale perché ok che ciao comunque è molto giovane e sta facendo bene però un mezzo dubbio a me sarebbe venuto soprattutto perché appunto Kier anche per l'età e soprattutto per l'età non ti garantisce chissà che cosa quindi solo che è ovvio che dovresti andare su un difensore centrale esperto però che allo stesso tempo sa di non essere il titolare in questo momento poi sappiamo che le stagioni cambiano un ciao 2.0 no? eh sì sì anche per completare il reparto anche anche sì Bea io chiuderei con l'attacco perché come scrive la Gazzetta dello Sport si riflette per il centroavante perché nonostante i gol che cambiano Giroud, Okafor eccetera se dovesse partire Lorenzo Colombo in prestito cosa che è probabile molto eh tra il Genoa il Cagliari in questo momento più il Cagliari comunque a parte che bisogna trovare comunque una squadra che gli garantisca un po' di minutaggio perché altrimenti sì di giocare io penso anche che Lorenzo Colombo possa giocare in Serie A in una squadra del genere e ritagliarsi se non nel posto del titolare ma poco ci manca eh e quindi diventare quella secondo step che ad esempio ha fatto Pobega qualche anno fa quindi Pobega al Toro lui eh magari al Cagliari o al Genoa stesso che si è messo su una buona squadra eh vediamo vediamo dove dove andrà il buon Lorenzo Colombo al di là al di là Liollo se dovesse partire rimarrebbe Olivier Giroud rimarrebbe Okafor che punta centrale vera e propria non è è una punta centrale diversa quantomeno molto diversa rispetto a Olivier Giroud servirebbe un magari un attaccante un po' più vero un po' più punta un po' più centrale d'area di rigore i nomi di oggi di Gazzetta dello Sport sono due ovvero quelli di Echitiché e di Brogia che arrivano entrambi da due stagioni tribolate cioè una stagione in realtà due se ne scambiamo è una con l'altra una stagione per Echitiché che era partita in secondo piano lo vediamo 2002 del Paris Saint-Germain non giocando tantissimo nella seconda parte qualche minutaggio in più l'ha trovato non troverà però grande spazio neanche nella prossima stagione potrebbe andare via in prestito anche se il Paris se lo dà in prestito lo vorrebbe dare con una mezza garanzia che insomma poi rimanga là non so se è tanto dell'idea di mettere un prestito con obbligo o obbligo vincolato o comunque legarsi a un prestito che non sia un prestito con diritto è un attaccante come detto centrale non sarebbe semplicissimo se il Paris non apre al prestito con diritto altro discorso invece per il buono Armando Brogia che si il Chelsea si apre al prestito si apre al prestito con diritto si però ha avuto un grosso problema si è rotto i legamenti del ginocchio si è rotti a metà dicembre e non si è ancora riaffacciato in squadra quindi è un rischio questo sarebbe un investimento per la stagione diciamo così per l'intera stagione per i primissimi mesi per le primissime partite no perché magari il guarito è ma ora che rientra in ritmo un giocatore che è stato fermo da dicembre ci vuole il suo tempo sì è un rischio sempre quando soprattutto voglio dire se pensiamo a tanti episodi di quell'infortunio la stagione dopo quell'infortunio è sempre un po' complicata tra ricadute magari muscolari problemini muscolari quindi è sempre un rischio io credo che in questo momento una punta vada presa ma perché io non ce lo vedo Olivier Giroud che fa la stagione dell'anno scorso con un anno in più cioè la stagione dell'anno scorso di Olivier Giroud è una cosa unica nel suo genere a quell'età perché i giocatori di quell'età vengono dosati molto molto di più io ricordo partite che giocavo Olivier Giroud che non doveva giocare e neanche noi magari ci aspettavamo giocasse magari dopo la Champions o prima della Champions io una stagione così da lui non credo di potermela aspettare di potercela aspettare e anche giustamente però per ora mi sembra un po' in alto mare la questione della punta cioè ci sono delle ipotesi però non mi sembra un qualcosa su cui ci siano delle certezze in questo momento che è il 14 agosto è una settimana ovviamente un po' di passaggio questa domani sarà ferragosto insomma sia per noi che per il Milan è giorno di giorno di festa quindi oggi chiudiamo con obbligo stasera c'è il talk ovviamente in serata poi domani 15 non ci non ci sarà nulla sulla radio se volete recuperare qualche vecchia puntata che ne so siete nostalgici di Sandro Canali? metti c'è lo speciale su Sandro c'è lo speciale su Sandro che avevamo fatto un annetto fa circa un annetto e mezzo fa quando eravamo andati a Sant'Angelo di Giano insomma eravamo andati un po' nei luoghi di Sandro ad esempio oppure ci sono tutte le nostre clip che trovate sul canale Bea grazie buona giornata buon ferragosto anche a voi buon ferragosto ci vediamo nei prossimi giorni ci rivediamo il 16 con obbligo di riscatto oppure direttamente in serata con il talk grazie a tutti buon ferragosto grazie a tutti grazie a tutti